Per utilizzare la nuova funzione di iOS 10.3 che vi permetterà di ritrovare le AirPods e vedere l'ultimo luogo dove sono state utilizzate, si utilizza la stessa applicazione che serve per trovare gli iPhone smarriti, Find My iPhone o Trova Il Mio iPhone. Una volta avviata l'applicazione, dopo un veloce aggiornamento del sistema, potrete vedere l'elenco di tutti i vostri dispositivi che verranno anche visualizzati su una mappa, mappa che viene praticamente utilizzata tramite la geolocalizzazione dei dispositivi, qualora i dispositivi avessero un modulo GPS. Nello specifico, ovviamente le AirPods non hanno un GPS, potete vedere sulla mappa l'ultimo luogo dove sono state utilizzate e qualora fossero ancora connesse al vostro dispositivo, potrete selezionarle per far emettere un suono abbastanza alto in modo da sentire dove sono e ritrovarle. È possibile attivare il suono su entrambe le cuffie, è possibile attivare il suono sulla cuffia sinistra o è possibile attivare il suono sulla cuffia destra. Grazie a tutti.